Dopo la conferenza stampa di presentazione, costituente per Battipaglia è pronto alla sua prima uscita pubblica. L'appuntamento è per domani pomeriggio alle ore 18 presso la scuola di Amicis. Si parlerà dei progetti per il rilancio di Battipaglia, fra cui ambiente, PUC, cultura, sviluppo, giovani e famiglia. E diciamo che è un'iniziativa che vuole subito dire alla città che c'è un'alternativa allo stato delle cose attuali e che al governo della salute pubblica noi contropponiamo il governo delle competenze e quindi riuniamo intorno ad un tavolo le sigle che hanno dato vita a questa costituente per parlare di alcuni temi importanti per la città. Vogliamo dare un titolo a questa iniziativa? Il titolo è che questa città ha bisogno di un governo delle competenze. Non a caso noi inizieremo parlando di vivibilità e di governance, di ambiente, di sviluppo, di famiglia, di giovani, di cultura e anche di piano urbanistico comunale, inteso come consumo zero del suolo e soprattutto come infrastrutture. E sarà l'occasione per presentare mercoledì alle 18 alle Diamicis quello che è un nostro fiore all'occhiello ed è la pista biking e running lungo le sponde del Tusciano, dal centro di Battipaglia fino al mare. Dunque progetti innovativi si prospetta nel 2019 di contrapposizione a questa amministrazione? Ma più che contrapposizione è la presa d'atto di un fallimento per cui questa nostra iniziativa è anche un SOS alla città, agli uomini, alle donne, alle migliori energie per mettersi insieme. Non a caso la costituente nasce da sette sigle eterogenee ma che sulla questione di Battipaglia avvertono la necessità, l'urgenza di fare gruppo e di allargare tutto questo ad altre esperienze per far sì che, come dicevo prima, al Governo di Salute Pubblica che in questo momento promuove la Sindaca, noi contrapponiamo il Governo delle competenze, delle migliori energie e risorse di questa città perché per recuperare il tempo perduto e far ripartire Battipaglia c'è bisogno di competenza, forza, entusiasmo e soprattutto di persone capaci nell'organizzazione dell'amministrazione pubblica e della politica.